Ciao a tutti, sono Antonio Nazzeni, istruttore Spartan SGX. Oggi vi parlo dell'ostacolo presente nella Spartan Race, che è la slackline. L'ostacolo è terminato, iniziato, quando con trappi piedi toccano la fettuccina, che è la slackline. Se non ho ancora toccato con trappi piedi la fettuccina, posso cambiare linea, quindi cambiare corsia, e provare sull'altra slackline. Non posso utilizzare nessun sostegno, quindi con i bastoni da trekking, per appoggiarmi su tre metodi. Non posso toccare con qualsiasi parte del corpo il terreno durante il percorso, e quindi arrivare fino alla fine. Se cado prima di arrivare alla fine della fettuccia, l'ostacolo è determinato fallito, e quindi devo fare in 30 batti, in questo modo. Alla prossima Spartan.